se ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora toccavo ok ragazzi andiamo a provare un gioco che mi avete richiesto ma proviamo prima la demo vediamo com'è e poi vedremo il vero gioco più avanti quando esce ma adesso andiamo a vedere questa grandissima temo aspettiamo che si avvia caricamento eccolo sotto squareni è cambiato non so perché io non avevo provato quello del 3ds mi sembra file salvataggio non usare del gioco c'è un funzionamento dietro salvataggio questo qua è il gioco è una demo non fate conto di quello che che è ma è the world non riesco molto a leggerlo però è questo gioco che mi avete chiesto molti voi andiamo nuova partita facciamo il primo un pezzettino perché non potremo farlo tutto al salvataggio automatico e vediamo le migliorie che ha io non l'ho mai giocato fate conto che questa non è la versione definitiva perciò vuol dire che può cambiare qualcosa dalla demo può sempre cambiare qualcosa perciò magari in questo gioco qua cambierà qualcosa già si può vedere una tokyo proprio dalla parte dove c'è il il le strisci pedonali quelle che si intersecano però vedo che non hanno gli occhi le persone come mai oh poi dove c'è il cane che è stato anche il protagonista del film oh vibra il pro controller dobbiamo andare là dove ci chiamano ok ci stiamo spostando dalla cartina all'altro pezzo vedete in italiano in giapponese davvero bella questa combinazione ok come si può ok come si può ok come si può ok Ok vediamo vedete in alto c'è già C'è già il comparto di prenderlo su console su iShop E ci spostiamo dall'altra parte E così vedete parla al telefono E più No adesso forse si può entrare da qualche parte Ok Ritorniamo indietro E dobbiamo ritornare dove c'è il ragazzino sarà No Stiamo ritornando poco indietro So who exactly are we looking for? Dude, just forget it Ah potete anche fermarlo il video What the hell was that? Oh! Did you see that? They're shooting off fireworks Let's check it out Ren dude Ah questi però hanno gli occhi Meno male Bene ragazzi allora abbiamo Aspettate I've got a bad feeling about this Yeah I'm starting to get one too Greetings Sheeple of Shibia Got some red hot news for ya Oh No I got a horrible feeling Run A new game has finally begun A new game has finally begun A new game has finally begun Fred look out I've seen this before Bene ragazzi allora abbiamo visto un primo pezzo Non ve lo voglio spoilerare tutto Perciò con questo ci ritroveremo poi se volete ancora e se arriva un tot di visualizzazione Scrivetelo nei commenti mettete un mi piace Se arriverà un tot di visualizzazione faremo il secondo video Anche se lo richiederete nel commenti allora arriverà un altro video proprio del gioco quando esce Per questo è tutto sempre e soltanto Nintendo Ciao ciao Ciao